Benvenuti in questo spazio museale dedicato al brigante Luigi Alonzi detto Chiavone. Nato a Sora il 20 giugno 1825 in località Crocebranca. Qui sono raccolti documenti, cimeli, armi, monete e suppelletti livari. Relativi a quel periodo storico che va dal 1860 al 1870, anni della stagione del grande brigantaggio che vedeva contrapposti da un lato, i Borboni, difensori del regno delle due Sicilie, con l'aiuto del clero e di alcune bande di briganti, e dall'altro i piemontesi che aspiravano all'unità d'Italia, con l'appoggio dei Garibaldini. Se vuoi vedere e ascoltare le storie del percorso, i vicoli di Chiavone, scannerizzare il QR code e seguire le indicazioni. Grazie. 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 Grazie.